bentornati su my football jersey quella che vedete una maglia storica per i colori juventini questa è la seconda maglia del 1995 96 la maglia dell'ultima champions league e questa maglia non è niente male nella mia classifica non va al top però riportando alla mente i fasti di quella squadra fantastica che vinse la champions league prende quattro stelle sicuramente di un'ottima qualità e se amate questi colori ve la consiglio senza meno il costo lo vedete qui sopra ecco su quello non possiamo dire niente un costo veramente bassissimo per una maglia così fatta bene un'occasione irripetibile qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia ma soprattutto trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari quindi il costo che usate prima diventa ancora più basso ora vi lascio la parte finale se però in futuro volete avere nuove recensioni mi raccomando iscrivetevi al canale non vi costa nulla ma permette a noi farvi vedere sempre video nuovi per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan ciao 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 ciao